Ciao a tutti ragazzi, ho a tutti e ho a tutti, benvenuti in questo nuovo video Questo è un video principalmente, anzi solamente per la gente che ha cominciato da poco a giocare Ha ripreso da poco, ha incominciato effettivamente da poco È un video per chi ancora non sa bene dove andare per comprare le carte Perché sì, in questo gioco le carte si comprano e costano pure abbastanza Vedo ancora gente che magari va a prenderle da privati su Facebook Che comunque ci sta come cosa perché su Facebook è facile trovare mazzi già pronti, lotti o cose del genere Però diciamo che è un po' niente, market free di Facebook Sì, è carino, ci sono delle belle cose per carità C'è gente di cui fidarsi anche, basta semplicemente chiedere delle referenze Però diciamo che non è proprio il massimo Quindi in questo video io vi faccio vedere di quali siti non fidarvi E di quali invece vi conviene fidarvi Per quanto riguarda i prezzi, perché ci sono alcuni siti che hanno prezzi enormemente alti Ragazzi, inutile dirlo, ebay non vi fidate Adesso però cominciamo con i consigli Card Game Club Card Game Club è questo sito qui che vende a prezzi altissimi le carte Utilizzatelo per questo, per i prodotti Ecco qua Per i prodotti Non utilizzatelo per le carte singole perché Ragazzi, sono prezzi veramente impressionanti per le carte singole Veramente assai Mentre per i prodotti ha prezzi effettivamente abbastanza buoni Quindi per i prodotti vale la pena utilizzarlo Anche perché è un sito molto conosciuto, molto famoso in Italia È a tutti gli effetti uno store Quindi essendo uno store è normale che sulle carte singole alzi i prezzi Però sui prodotti ragazzi, quello è il prezzo Quindi Card Game Club assolutamente Se volete prendere Structure Deck, cose del genere, vale la pena Però io vi dico Prima di vedere online per quanto riguarda i prodotti Vedete nella vostra zona se c'è qualcosa, qualcuno che vende tuttora Yu-Gi-Oh Perché magari favorite insomma il commercio nella vostra zona diciamo Però Card Game Club a parte ci sono due siti su quali puntare Ovviamente Ebay ve lo escludo Ebay ragazzi no, non utilizzatelo perché fa veramente cagare È raro trovare cose veramente decenti su Ebay Il primo TCGplayer.com Allora, questo ovviamente è un sito che vale per tutti i giochi TCG C'è veramente di tutto E questo, è così come si presenta il sito TCGplayer.com Allora, è un sito americano Quindi di conseguenza le carte sono in dollari Vedete? Un dollari 17 Però TCG è abbastanza buono Io sinceramente non lo utilizzo mai Perché mi trovo molto meglio con l'altro sito Però molte recensioni portano bene a questo sito Insomma, è un sito di cui fidarsi Ti danno anche qualcuno con cui interfacciarti Insomma, se hai problemi Puoi tranquillamente contattare il supporto E risolvere in quel modo Perché dico che TCGplayer.com Ha dei prezzi troppo alti? Perché guardate, per esempio C'è Malicious Bane L'eroe malvagio Che costa la bellezza di 63-64 dollari 64 dollari Su TCG TCG Mentre l'altro sito, ragazzi Inutile dire È il più famoso È Cardmarket È questo qua E vediamo, per esempio Malicious Bane Che ci viene a costare Su Cardmarket Questo è europeo È dedicato all'Europa Questo è un portale dedicato interamente all'Europa Quindi le spedizioni costano poco Sono molto più veloci I prezzi sono molto inferiori, ragazzi Malicious Bane 28 euro spedito dalla Croazia Prima edizione Italiano In italiano sì, certo In inglese Mint Per quanto riguarda Cardmarket Qua vedete direttamente La lingua C'è tedesco Francese In inglese Spagnolo Italiano Talvolta è possibile trovare anche qualcosa di coreano Insomma È molto completo Qui c'è un grafico che addirittura ti fa vedere l'andamento dei prezzi della carta Nell'ultimo periodo Nell'ultima 9, 12, 7, 1 Quindi all'incirca nell'ultimo mese Negli ultimi dovrebbero essere 28 giorni Questo è decisamente il sito da seguire per eccellenza Per tutti i giocatori europei Non state a vedere la tendenza di prezzo Perché la tendenza di prezzo vede semplicemente a quanto è stata venduta l'ultima carta di questo tipo Quindi l'ultimo Malicio Svein è stato venduto a 32,04 La tendenza non è quella giusta da seguire Quella giusta da seguire è o il minimo Che è da 28 euro Che prende appunto il prezzo minimo Oppure Andate a cercare la carta nella lingua che vi interessa Cioè la prima carta italiana Che in questo caso la troviamo qui a 52 euro E quello è da considerare come prezzo Alcuni mettono addirittura le foto Delle carte Si possono mettere tranquillamente le foto delle carte Ragazzi Calmarket io lo uso da tantissimo tempo E devo dire È un sito veramente veramente fatto con il controcazzi Qua c'è la possibilità anche Hai la possibilità anche di cercare i rivenditori Veri e propri Devo dire Quelli che mi sento di più di consigliarli Anche se hanno un prezzo più alto rispetto alla media Sono Cardsmania Per quanto riguarda i rivenditori italiani World Cards Ed LPP Anche se World Cards secondo me sta un po' più sopra Cardsmania Ed LPP E un altro che mi consiglio è Virgins Questo è il nostro profilo Carmarket Che trovate qua sotto Nell'info box Dove vendiamo carte E niente Questo è il nostro profilo Ci sta un po' di spam in un video del genere Insomma Ditemi se volete Un video Per capire Come utilizzare Carmarket Come diventare venditori O cose simili Poi se lo volete Ci faccio un video Interamente dedicato Comunque Questo è il portale Per eccellenza da seguire Carmarket Si può accedere Al cellulare tranquillamente Quindi In qualsiasi momento Voi abbiate bisogno Di un prezzo Di una carta Ci potete accedere Assolutamente Vi filate delle imitazioni Carmarket È il sito migliore Dove cercare Ovviamente Come tutti gli altri siti Ci dà diverse possibilità Magic Pokemon Dragon Ball Force of Will Final Fantasy Vanguard World of Warcraft Star Wars Destiny Wise Schwartz Che non ho idea di cosa sia Dragonborn My Little Pony My Little Pony The Spoils E anche ovviamente Yu-Gi-Oh Non appare il logo Perché io Sono già Nella sezione Yu-Gi-Oh Noi vediamo anche Carte Pokemon Se vi interessa In ogni caso Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto E soprattutto Vi sia stato utile Vi ho elencato Molto velocemente Due siti Veramente Veramente Utili E importanti Se volete Comprarvi delle carte Se siete appena tornati a giocare Comprarvi mazzi Completamente Mi raccomando Ultimo consiglio Provate a prendere Il numero più alto possibile Di carte Da un rivenditore Perché ovviamente Le spese di spedizione Sono diverse Cioè Se ordinate da due rivenditori Dovete pagare Due spedizioni di diverse Non un'unica Quindi di conseguenza Verrete più carte possibili Dallo stesso rivenditore E quei tre Che vi ho elencato prima Ne hanno veramente tante Di carte LPP World Cards E Cardsmania Quindi ragazzi Noi ci vediamo Domani alle 15 Con un nuovo video Come al solito A ciao a ciao Ciao a ciao Ciao a ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti